Anza, Gerusalemme, 3 Mag, ben 67 telecamere domani controlleranno il percorso, vigilando sulla sicurezza. Vogliamo indurvi a dire, quando lascerete questa terra, che Israele è un paese sicuro, che vi siete sentiti sicuri e che noi garantiamo la massima sicurezza di tutti. Il giro per Israele è un evento di fondamentale importanza, garantiremo la massima sicurezza. Questo è un evento sportivo, la politica non c'entra nello sport e i confini politici e religiosi vengono superati. Così Daniel Bemem, il responsabile israeliano della partenza del giro da Gerusalemme. Riproduzione riservata Copyright. Grazie a tutti.